Attenzione perché forse la Cina sta perdendo il treno della blockchain. Il discorso però è un po' complicato e devo chiedervi un po' di attenzione. Partiamo da questa notizia, di cui vi metto il link in descrizione, di che abbiamo pubblicato questa mattina sul Cryptonomist. Questa notizia è molto interessante perché parla di una ricerca effettuata da Bloomberg che ha confrontato l'andamento dei prezzi medi di otto titoli azionari di aziende cinesi legati alla blockchain con quello di altre 24 aziende estere, cioè di tutto il mondo, sempre legati alla blockchain. Che cosa ha scoperto Bloomberg? Ha scoperto che i titoli azionari delle aziende blockchain cinesi seguono meno il mercato delle criptovalute di quanto non lo seguono invece le altre aziende, cioè quelle legate alla blockchain in tutto il mondo. Cioè in altre parole in Cina sta avvenendo una sorta di distacco tra il mercato delle criptovalute e quello della blockchain. Ma se a qualcuno questo potrebbe persino sembrare un vantaggio, in realtà invece è un enorme svantaggio. Però per spiegarvi perché devo introdurre alcuni concetti tecnici. Infatti il bello della blockchain, il fatto di essere una tecnologia rivoluzionaria, è la sua decentralizzazione. Cioè se una blockchain non è decentralizzata, magari può anche servire a qualche cosa, ma non è affatto rivoluzionaria, non è affatto una grande innovazione. La vera rivoluzione è solo quella delle blockchain decentralizzate. Ebbene, tecnicamente non può esistere una blockchain decentralizzata senza una criptovaluta. Quindi nel momento in cui si tolgono le criptovalute dalle blockchain, quello che rimane sono blockchain non decentralizzate e quindi non rivoluzionarie. La Cina ha deciso di prendere distanza delle criptovalute e abbandonare quindi giocoforza lo sviluppo di strumenti basati su blockchain decentralizzate e quindi ha di fatto abbandonato questa enorme rivoluzione con tutte le potenziali innovazioni che potrebbe portare. Poi, per carità, le innovazioni non è che siano sempre per forza positive o negative, possono essere positive o negative, però senza blockchain decentralizzate queste innovazioni nel settore blockchain non ci saranno, saranno sostanzialmente solamente delle piccole modifiche a delle soluzioni già esistenti oggi. Infatti anche la valuta digitale di Stato cinese, che non è una criptovaluta, va in questa direzione, cioè la Cina ha scelto di allontanarsi dalla decentralizzazione, che è la vera rivoluzione, e di tornare a fare tutto come si è sempre fatto in modo centralizzato. D'altronde la Cina è un vero e proprio regime, più o meno totalitario, quindi non c'è niente da stupirsi che abbia abbandonato lo sviluppo di soluzioni basate su blockchain decentralizzate, ovvero senza un capo, senza qualcuno che le gestisce, e invece sia tornata a fare le cose come si sono sempre fatte, cioè in modo centralizzato e assolutamente non rivoluzionario. Però attenzione, il bello viene qua. Invece all'estero, in particolare negli Stati Uniti d'America, le blockchain decentralizzate stanno continuando non solo ad esistere, ma anche in qualche modo a prosperare, perché lo sviluppo di strumenti basati su queste blockchain sta andando avanti moltissimo, non solo negli Stati Uniti, ma anche in molte altre parti del mondo. Quindi, da un lato abbiamo la Cina, che ha deciso di abbandonare la decentralizzazione, la rivoluzione della decentralizzazione, mentre dall'altro abbiamo molti paesi che invece la tollerano. Ovviamente non possono essere gli stati a fare questa rivoluzione decentralizzata, devono essere i cittadini, però ci sono stati che tollerano i cittadini, che sviluppano strumenti e soluzioni su blockchain decentralizzate, e alcuni addirittura che ne favoriscono in qualche modo il loro sviluppo. Quindi potete ben capire che ci sono stati, tra cui anche l'Italia, che potrebbero avvantaggiarsi molto nei confronti della Cina, proprio grazie al fatto che abbracciano e magari anche sostengono la rivoluzione delle blockchain decentralizzate, mentre invece la Cina non solo non lo sta facendo, ma se ne è tirata fuori. Inoltre bisogna tenere presente anche altre due cose. La prima è questa. Ultimamente, negli ultimi anni, la Cina è praticamente sempre stata avanti, in questo caso invece è indietro. Pensate agli smartphone. In Cina hanno tutti lo smartphone e pochissime persone il computer. Sono stati i primi ad avere i pagamenti sullo smartphone. Da loro WeChat, che è l'equivalente del nostro WhatsApp, ha già i pagamenti integrati da un sacco di tempo, da noi WhatsApp non ce li ha ancora, li stanno ancora testando. Quindi, per la prima volta da qualche anno a questa parte, il resto del mondo può essere più avanzato della Cina. E seconda cosa, guardate che fin tanto che in Cina continuerebbe ad esistere questo regime politico, e questo è incompatibile con la blockchain decentralizzata, quindi questo treno che la Cina ha perso, è possibile che se in Cina le cose non cambiano, non ci salterà più sopra, l'ha perso per sempre, punto. A meno che un domani non si rendano conto di aver sbagliato e decidano di tornare indietro. Ma per ora, sul breve termine, è questo. Io sinceramente lo ritengo molto poco probabile. Quindi è ora di avvantaggiarsi da questo errore strategico della Cina e iniziare a puntare moltissimo sulle nuove soluzioni basate su blockchain decentralizzate e criptovalute. Perché abbiamo un vantaggio, un vantaggio che la Cina potrebbe non riuscire a colmare sul breve periodo, ma secondo me nemmeno sul medio periodo, e quindi potremmo davvero, una volta tanto, essere nettamente favoriti rispetto alla Cina. Tra l'altro, secondo me, gli Stati Uniti d'America a questa cosa ci stanno già pensando, perché da loro il settore blockchain, quello della blockchain vera, comunque sta andando avanti, sta procedendo. Noi in Italia purtroppo un po' meno, però facciamo parte anche noi di quel mondo occidentale capitalista che probabilmente può fare in qualche modo uno sforzo comune, visto che le blockchain decentralizzate sono globali a prescindere, e quindi può trarre giovamento tutti insieme da questo vantaggio che abbiamo a tutti gli effetti nei confronti della Cina attualmente. vedremo come andrà a finire nei prossimi anni, nel frattempo invito tutti a non aver paura di innovare, a non aver paura di queste rivoluzioni, anche se oltre a aspetti positivi hanno inevitabilmente anche aspetti negativi. Non bisogna smettere di innovare solo perché si possono produrre anche effetti negativi, bisogna tenerli ben presenti, in qualche modo limitarne i danni, ma bisogna cercare di sfruttare invece gli aspetti buoni che inevitabilmente ci sono. Poi, come al solito, se avete ancora dubbi o domande, ricordatevi che potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto! Ciao!